I Verdi vogliono rendere reato il negazionismo climatico di Valerio Pece Presenterò una proposta di legge per il reato di negazionismo climatico Queste le parole di Angelo Bonelli, portavoce del partito Alleanza Verdi e Sinistra Sul caldo da record, seppur indirettamente, Bonelli era già stato rimbrottato a dovere da Mario Giuliacci e Paolo Sottocolona, entrambi climatologi Il primo laureato in fisica e fondatore di Epson Meteo, con tono frustrato su libero ha affermato che, aperte le virgolette, negli ultimi tempi è una gara a chi le spara più grosse tra siti, giornali e tv, chiuse le virgolette, aggiungendo, aperte le virgolette Cosa vuol dire tempesta di caldo? Non vuol dire niente Poi è stata diffusa una bufala, arrivano ai 50 gradi su mezza Europa, Italia, Spagna, Francia ma io dico, sarebbe la fine del mondo, chiuse le virgolette Sottocolona, invece, per aver parlato di procurato allarme, a seguire le idee, Bonelli sarebbe addirittura passibile di incriminazione In un intervento all'aria che tira, il meteorologo ha affermato senza paura, aperte le virgolette La stampa internazionale parla di caldo infernale in Italia Questo dipende dal fatto che leggono i giornali italiani altrimenti non scriverebbero sciocchezze di questo genere Chiuse le virgolette Il confine tra negare il caldo record, negare il riscaldamento climatico tucur o negare la sola origine antropica dello stesso, come al solito, è molto labile Pericolosamente labile Il codice penale e magari le manette, come spada di Damocle sulla testa dei cittadini Non perfettamente in linea col credo turbo green Esattamente l'operazione liperticida di D.L. Scalfarotto poi divenuto di D.L. Zan Non è esattamente il massimo della costituzionalità Senza nemmeno citare l'articolo 21 della Costituzione più bella del mondo per il quale, aperte le virgolette tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero Chiuse le virgolette Perfino chi nutre qualche dubbio sull'auto elettrica Assodato comunque che la proposta di Bonelli avrebbe come primi imputati due meteorologi Quel che davvero rileva è il clima da caccia alle streghe che allinea in Occidente e che va allargandosi a macchia d'olio Un desiderio di museruola che ad aprile dello scorso anno ha portato il presidente Biden a costituire un vero e proprio Ministero della Verità L'ente destinato alla censura immaginato da George Orwell nel suo 1984 L'esperimento politico ufficialmente nato per combattere le fake news aveva il nome di Disinformation Governance Board cioè Consiglio per il controllo della disinformazione Durò lo spazio di poche settimane finendo per naufragare sotto la pressione degli americani una pressione ben sintetizzata da una frase del repubblicano Willy Montagu aperte le virgolette C'è qualcosa di più distopico di un consiglio per governare la disinformazione gestita dal governo federale chiuse le virgolette allargando il campo e lasciando per un attimo Angelo Bonelli alle sue strampalate proposte di legge Alla luce delle velocissime trasformazioni di pensiero e costume dovremmo seriamente chiederci come rileggere oggi il concetto di libertà di opinione e non solo Al netto del folclore questo è il punto vero della vicenda Cosa resta dell'Occidente delle sue conquiste di libertà? Cosa ci separa dalle dittature universalmente riconosciute? Più prosaicamente la giornalista della verità Maddalena Loi scrive aperte le virgolette I paesi in cui viene regolarmente soppressa la libertà di opinione cos'hanno da invidiare a un'Italia in cui un Bonelli chiede l'istituzione del reato di negazionismo climatico a un Regno Unito in cui il conto corrente di Nigel Farage viene chiuso per le sue opinioni non allineate a un Canada dove i conti correnti dei camionisti che protestano contro il crimpassa sono bloccati chiuse le virgolette ma Bonelli non è solo la categoria dei Bonelliani pronti a raccogliere i sassolini nell'Adige ma a mandare in galera chi vorrebbe problematizzare le questioni nel loro invasato procedere vengono supportati da molti non solo i giovani ecoterroristi di ultima generazione non solo da quelli di Fridays for Future forse più miti ma anche da attori e cantanti anni luce dalla misura e dall'eleganza del padre Alessandro Gasman giorni fa ha fatto fatica a contenersi aperte le virgolette andiamo verso temperature mai raggiunte da centomila anni a questa parte ragazzi chiuse le virgolette il piano scelto da Gasman nuovo guru della scienza è chiaramente apocalittico quindi teologico per cui adatto ad una risposta di pari grado Don Antonello Iapicca missionario in Giappone a modi monito ha ricordato all'attore l'ennesima follia di un antropocentrismo senza Dio che spinge l'attuale generazione ai vertici del ridicolo il regato di negazionismo climatico proposta folle prima ancora che liberticida è oltre il ridicolo